Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo episodio di SkyGround Episodio numero 7 E' un caso? Io non credo No, io non credo Allora, come avevo detto Sono stato a Romic, è stato bellissimo Mi porterò dei video, ve ne è già uscito uno oggi a Luna Che è lo speciale 300.000 iscritti Se ancora non lo avete visto non avete lasciato un mi piace Andate a farlo subito Se no vi, mi offendo Però, la cosa importante qual è? La cosa importante E' che Non ho avuto modo di leggere tutti i commenti Mentre ero a Roma Quindi l'ho letto ieri sera Questo episodio, questo episodio di pomeriggio Lo carico, spero di riuscire a caricarlo Entro le 7 di oggi Diciamo che Allora, il fail del pollo Devo dirlo Sono stato scemo come la merda Quanti cazzo di creeper ci sono? Oddio non esplodere Ah ma io mi scordo sempre che Che roba buona Dammi per favore Un pezzo di bombial Se avessi un grandissimo favore Mi ha dato il pollo invece Sto pezzo infame Ok Allora Qual è il primo fail Oltre al pollo Oltre al pollo Easy L'albero Come avete visto Nel questo episodio Cosa ho fatto Ho piazzato Altri tre alberi Perché questi sono i dark Oak Sapling Cosa vuol dire? Vuol dire che crescono solamente Se sono quattro Tipo gli alberi della giungola Poi mi avete anche detto Di spostare quest'isola Perché Qua è dove Sponerà La prossima Isola E non vorreste Che mi si bugga tutto Però io non ho abbastanza terra Per spostare Dovei prendere dell'acqua Poi mi avete anche detto Che qui Teoricamente Oltre allo spawner Di cobblestone Perché ci sono gli scheletri Con la cobblestone Incorporata C'è anche Dell'acqua Cioè Altra acqua Quindi cercheremo Di prendere anche quello L'unica cosa È che qui Purtroppo Si è fatto Giorno E gli spawner Come ben sappiamo Di giorno Non fungono Sti cagli Bastare Vanno attiro Un po' A forza di mazzate Che porcagna Lascia stare Ok Cerchiamo di spawner Un attimo Quella zona lì Se non sbaglio C'era anche Altro ferro Se Ah eccolo qua Ho un piccone Se non sbaglio E' uno anche più grande Ma mi sa che sono morto Vabbè Io lo prendiamo Questo pezzo di grano Boom Perfetto Dunges 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 Uh Posso farmi un panino Vabbè Io Comunque Romics Ho parlato con gli organizzatori Del padiglione games E Abbiamo Sforato Tutto Acqua Acqua Nel senso che Abbiamo Fatto Il record Del romics Di sempre 180 mila persone Wow 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 E potete dire quel che volete Ma la maggior parte Erano lì per Youtube Italia Ed è stato Bellissimo È stato bellissimo Una delle fiere Più belle Più belle Fino ad ora Che io abbia mai fatto Ok Ho quattro pezzi di ferro Là c'è Una fonte d'acqua Ho due fonti Una fonte d'acqua Quindi posso farmi Un secchiello Prendere questa E quella E posso farmi una fonte Infinita Con il quale posso farmi Una pozzanghera In cui Tramite delle stringhe Che non ho E chissà come cazzo Le prenderò Posso farmi Esattamente Il pesce Mi faccio la canna La pesca E mi faccio il pesce Dove fare la fornace Era qua sotto Sono scemo io Vai Koshi Co Come Come koshio Con legno Ma il legno sta finendo Così Giusto per farvelo notare Vabbè Yolo Perfetto Ora aspetterò la notte Oppure Vabbè aspetto Che cuociono Quei tre pezzetti Molti di voi Mi hanno detto Perché Tra gli autografi Le foto Tutte le cose Tutte le chiacchierate Che facciamo Alcuni di voi Parlando Mi hanno detto Che in questa serie In legno Non è così tanto Come sembra Effettivamente Prendere il bombial Non è così facile Come immaginavo E' una mappa Che Skygrind Grind vuol dire Raccogliere No Tipo World of Warcraft Negli MMO Grindare Vuol dire Perder tempo A raccogliere materiali Mi sa che Questo è Principalmente Lo scopo Della mappa A parte Naturalmente I mob stronzi Tipo Quelli Quelli E quelli Che verranno Poi Vabbè Agab Io sto pensando Dove posso fare Sta fonte d'acqua Infinitesima Posso farla qua sotto Potrei Ma non lo farò Perché non ho Abbastanza Spazio Posso farla qui Ti offendi Se la faccio qui Penso di no E infatti Perché dovresti Offenderti mai Boom Per prendere L'altra Permesso Permesso Grazie Danche Fammi passare per di qua La piazzo Allora La prima dove l'ho pezzata Oddio dove l'ho pezzata la prima Per essere sicuri Non vuoi La piazzata là Quindi questa la piazzo Qua Signore e signori Acqua infinita Che è la cosa Più bella Che ci poteva capitare Al momento Oltre al fatto Che è un secchiello E il secchiello Sarà bene Non perderlo Vorrei far notare Perché se prendiamo Il secchiello Sono cazzi È cresciuto da solo Ragazzi Vi sbagliavate Il legno Non sarà un problema Yolo Yolo tantissimo Ah Per sicurezza L'acqua La metto anche di là Non chiedetemi perché Ma Vuoi metterlo Ah ma c'è Ma Ma Ah quindi c'era C'era una fonte infinita D'acqua qua Eh potevi dimelo prima Potevi dimelo prima Comunque penso di aver capito Perché gli spawner Non funzionano di giorno Perché mi dà la possibilità Di lavorare Allo spawner Di giorno Invece Di notte Posso solamente Uccidere i mob Penso di aver capito Mi sa che era questo L'obiettivo Del tizio Che ha creato la mappa Bisogna Quei pezzetti di terra Andiamo a fare Cosa di questo Tipo Lì C'è della roba utile Ma se io scavo qua Poi muoio male Esattamente Quindi quelle uova Le lasceremo là Amarcire Che bello Che bello Allora c'era un'accetta Mi pareva di averne creata una Invece no E invece no Perfetto Vado a raccogliere legno Come se non ci fosse un domani Sperando che mi dia Le cose Perché altrimenti siamo fottuti Che bello Ok Ho raccolto tutta la legna Sono 43 pezzi di legna Mi sono usciti 4 dark oak sapling Ne ho persi tipo 3 di sapling Sono cauti nel vuoto Perché la piattaforma Non è delle migliori Ma non ho blocchi per farla E sto aspettando che mi scenda Questo qui Ok Quindi ho fatto 5 sapling Vuol dire che ho un guadagno Di 1 2 Perché ora questi 4 Li ripiazzo Per il prossimo albero Ok Anche se In effetti Mi converrebbe Ampliare questa piattaforma Intanto Usiamo tutto questo legno Perché è importantissimo Mi metto qua Le due cose Quindi posso fare un altro albero Che non è male Come cosa E ho 45 pezzetti Di legno Ho anche droppato 2 mele Che potrei mangiarle Cioè Yolo Va bellino Qua manca una torcia Mi sa Aspetta vediamo 9 Vedo un 8 Se c'è un 8 Devo mettere una torcia 15 uova È la madana Perché non sapesse Questa voce qui Light 2 punti Block Il numero accanto Vuol dire che Di notte Se in quel blocco C'è scritto 8 O inferiore La può spawnare Un mob Per fortuna Non è questo il nostro caso Qua non ci può spawnare Nessuno Nessuno Che culo Allora 15 uova Andiamo a spiaccicarle Tutte qua Non vi cadere fuori Calma calma Calmissima Sento un ragno A me servono Due stringhe Signor ragno Io la amo Venga qui Signor ragno Mi vede? Signor ragno Mi vede? Signor ragno Allora Signor Signor ragno Prima di attaccarla qua No Non ci arrivo Scusate Vaffanculo Eccolo 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 No E Il ragno Mi serviva tantissimo Quel ragno Mi serviva troppo Troppo Che cazzo Me ne faccio Del pollo Datemi le stringhe Vabbè anche questo Non è che mi lamento Un po' di terra Fa bene Ero così contento Ero così contento Sì Mi hai spugnato un ragno Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me bro? Are you? Are you? Bitch You are Ovvio Eccolo qua Un altro sapling Buono buono Sto bambina La casa Che culo Ehe Altro legno Altri sapling Ah ma guarda Quello di prima Simile Comunque Sto sapling E vado A cercare Un ragno Ragazzi Prima del prossimo episodio Devo assolutamente Trovare un ragno E' essenziale Ti spiego perché E' essenziale Ma è easy Pisi Le mosquisi Il motivo per cui E' essenziale Mi serve La canna da pesca E' la Cipment E' la E' la missione attuale Bisogna trovare Quel cazzo Di coso Che male Non c'è un altro modo Per fare Ste stringhe Di merda Che palle Quindi per questo video E' tutto Mi ringrazio tantissimo Per la visione E per il supporto Immenso Che sta tenendo A questa serie Anche dal vivo A robin Mi avete detto Tantissimi Quanto vi piace E mi fa davvero piacere Sta piacendo tanto Anche a me E' una mappa Hardcore Da veri intenditori Di minecraft Vi ringrazio Adesso per la visione Ci vediamo Nel prossimo video Nel prossimo episodio Domani alle 7 Come al solito Ciao Turuturututti Ok aspetta Aspetta Piccola creep Noo Quanta gente Spawnata Ma noo Io odio Gli skeletri